Quello che mi viene in mente pensando ai ragazzi è la parola gentilezza, quindi invito tutti a coltivare la gentilezza che è forse un valore che si è perso, che viene sottovalutato, ma la gentilezza rende gentile il cuore verso se stessi e anche verso gli altri, secondo me piccoli gesti di gentilezza e di generosità credo possano contribuire a migliorare la propria vita e anche quella degli altri, anche io sono contro. Grazie